Sì, finalmente si riprende a giocare. Abbiamo lavorato tantissimo, ci siamo concentrati su questa partita importante per noi e finalmente è arrivato il momento di giocarla. Le sensazioni dopo queste settimane, queste amichevoli, sono positive. Abbiamo cercato di sistemare i nostri problemi, ci sono viste cose buone in questi allenamenti congiunti con Padova e dobbiamo cercare di metterle in atto con piacenza. Sì, si può dire che è la nostra bestia nera, però siamo concentrati, abbiamo voglia di fare bene perché la stagione nostra non è stata così positiva, abbiamo voglia di riscatto e credo che questa sia un'occasione molto importante. Noi dobbiamo pensare soprattutto nel nostro gioco, non dobbiamo guardare tanto loro perché sappiamo che sono una squadra forte, una squadra esperta che è molto forte in tutti i fondamentali, ma noi dobbiamo guardare la nostra parte del campo, poi se loro saranno più bravi di noi ci batteranno, ma adesso dobbiamo giocarci alla viso aperto.